La politica e l'amministrazione fatte e costruite porta a porta sul territorio. È in sintesi questo il progetto ogni giorno, tutti i giorni con i cittadini. L'iniziativa inedita promossa dall'amministrazione D'Ambrosio è presentata dal sindaco insieme agli assessori e ai consiglieri comunali. Saranno proprio gli amministratori, infatti, due volte al mese, il sabato mattina, ad andare direttamente a casa delle persone per raccontare i progetti in corso e costruire insieme alla comunità il futuro di Alto Pascio. Dopo un anno dalle elezioni e con alcune cose già fatte sul territorio abbiamo deciso di continuare il percorso iniziato con la campagna elettorale che è stata una campagna elettorale porta a porta. Ora riprendiamo lo stesso metodo e lo spalmiamo su tutto il nostro lavoro dei prossimi anni. Cosa andiamo a fare? Andiamo a incontrare i cittadini a casa loro, nei quartieri per raccontare quello che stiamo facendo e soprattutto costruire con loro le cose che loro ci hanno detto che c'era bisogno di fare. Quindi prendiamo il programma elettorale, gli raccontiamo le cose da fare e costruiamo insieme le cose che dobbiamo ancora fare. È una cosa che si aggiunge agli appuntamenti del sindaco, ai sopralluoghi che facciamo insieme agli assessori, al lavoro dei consiglieri, quindi tutto rimane e si aggiunge un nuovo metodo di lavoro che è importante e fondamentale per mantenere il contatto, non perdere di vista le cose importanti e soprattutto raccontare e costruire insieme il futuro di Alto Pascio. Il programma di incontri prenderà il via sabato 15 ottobre da spianate con orario dalle 9 a mezzogiorno.